buongiorno e benvenuti ad una nuova live di tren sanità oggi parliamo della plastica nel settore della sanità vorremmo fare con le nostre esperte una riflessione su come e quanto sia davvero possibile ridurre l'utilizzo di plastica in questo settore che ha notevoli peculiarità sia dal punto di vista produttivo che logistico sappiamo che l'unione europea è molto attenta a questo tema e recentemente sono state introdotte norme più restrittive sulla plastica monouso e sugli imballaggi e tutto sommato la raccolta differenziata sta diventando una buona abitudine sempre più diffusa tra i cittadini anche nel nostro paese anzi spesso sono le amministrazioni pubbliche e le aziende private a non essere pronte per questa richiesta di attenzione all'ambiente che invece nasce dalla società civile tra le realtà che si impegnano per una maggiore sostenibilità nel settore sanitario c'è health care without harm europe un network internazionale di centinaia di ospedali stakeholder e più offrezionisti della sanità che si adoperano per creare un settore sanitario sostenibile il potenziale di trasformazione è enorme nella sola europa la sanità impiega infatti più di 21 milioni di persone e rappresenta il 10 per cento del pil in questo momento i nostri sistemi sanitari sono sottoposti a crescenti pressioni con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dell'impatto dei cambiamenti climatici e delle pandemie in questo quadro oggi vogliamo raccogliere spunti ed esperienze da chi ha già intrapreso iniziative in questo senso per la riduzione della plastica vi presento quindi le nostre ospiti arianna gamba circola healthcare program manager di healthcare without arm europe e silvia balcarossa health safety and environment manager responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'irx auxologico benvenute grazie per aver accettato il nostro invito buongiorno grazie grazie buongiorno ricordo già da ora a chi ci segue che è possibile inviare domande per le nostre ospiti tramite il pulsante presente nella schermata del collegamento gli ultimi 15 minuti della nostra live saranno dedicate alle risposte in diretta e per incominciare come al solito partiamo dai sondaggi che abbiamo proposto ai nostri lettori e iscritti attraverso le nostre pagine social nei giorni scorsi chiederemo quindi alle nostre ospiti un loro breve commento partiamo quindi dal primo sondaggio nel quale abbiamo chiesto nella sua struttura vede applicata la cultura della riduzione della plastica e dei prodotti monouso piuttosto variegate le risposte diciamo ci sono un po gli estremi sì in maniera efficace il 41 per cento di chi ha risposto no decisamente il 36 per cento nel mezzo diciamo sì un 14 per cento diciamo vede iniziative ma solo di facciata e il 9 per cento vede iniziative ma ancora poco poco presenti nel secondo sondaggio invece abbiamo chiesto quale fattore potrebbe fare davvero la differenza per una salita plastic free e in questo caso vince con il 35 per cento delle risposte un maggiore engagement del personale seguito con quasi il trenta per cento da una maggiore volontà politica altre risposte con il 23 per cento obblighi e sanzioni quindi diciamo una parte normativa più stringente e per il tredici per cento eh una revisione delle procedure aziendali a questo punto passo alle la parola alle nostre ospiti per un breve commento rispecchiano anche la vostra esperienza oppure avreste optato per scelte diverse dottoressa gamba partiamo da lei grazie per la parola eh sono risposte molto interessanti nella nel primo caso eh mi fa piacere vedere che più della metà delle risposte ha dato un tipo a indicano un tipo di azione verso la riduzione dell'uso della plastica e quindi si fanno vedere che qualcosa si sta si sta muovendo e rispecchia quello che vediamo noi all'interno del nostro della nostra rete di ospedali verdi ehm la maggior parte delle di queste persone che stanno già effettuando delle azioni alla riduzione eh la considerano anche efficace il che direi che che è ottimo bisogna continuare secondo me a sostenere il percorso di chi è già iniziato e aumentare la sensibilità verso questa tematica nelle strutture in cui ancora non si non si applicano delle delle misure e quello che abbiamo visto noi è che bisogna lavorare molto quando si stessibilizza sulla questione eh non solo ambientale ma anche della salute eh spesso viene ignorato che c'è il collega che la plastica è collegata anche alla crisi climatica perché si sa che la materia la la materia prima della plastica è comunque collegata all'utilizzo dei ehm di idrocarburi del del petrolio e idrocarburi ma c'è anche un impatto sulla salute microplastiche sostanze chimiche eccetera ed è secondo me l'impatto sulla salute è una tematica che può fare molto leva all'interno del settore sanitario cui eh principale missione appunto proteggere salvaguardare la salute e curare i suoi pazienti quindi questo è il commento per quanto riguarda la prima risposta per la seconda risposta ehm avrei risposto un po' diversamente perché l'engagement del personale è prioritario nel senso che se non ci sono se il personale non non vuole ottenere questo tipo di cambiamento è difficile ottenerlo ma allo stesso tempo ci sono delle non è abbastanza la volontà del personale bisogna avere anche le alternative alla plastica monouso bisogna avere i sistemi eh bisogna avere i sistemi che permettano appunto di guardare di più a prodotti riutilizzabili sterilizzazione lavanderie eccetera e bisogna avere anche anche le politiche quindi forse avrei risposto prima volontà politica obblighi sanzioni e revisione procedure e poi personale nel senso che prima ci vorrebbe tutta una struttura che permetta al personale di agire in questo senso. Certo. Benissimo la ringrazio. Eh passo quindi alla dottoressa Valcarossa per chiedere anche a lei un brevissimo commento su questi su questi sondaggi. Prego. Anch'io sono comunque concordo con Arianna diciamo mi ha colpito questo trentasei per cento del questo no ma in realtà ehm diciamo non mi stupisce ehm completamente perché eh la sanità è un settore che ha bisogno ancora di molta sensibilizzazione nella nell'ambito ambientale e che vede nella salute la propria mission e l'ambiente è ancora un qualcosa di marginale cioè io quindi percepisco questo dalla risposta anche in tema del sì ma ancora poco sì ma di solo di facciata sembra quasi ma moda cioè dire lo facciamo ma non ci crediamo quindi mh secondo me bisogna un po' molto puntare sulla l'engagement anche delle aziende quindi sicuramente è anche un approccio molto scientifico e quello di diffondere il verbo cioè deve dire guardate che non è non è solo moda ma cioè concretamente ha degli effetti sia sul clima che sulla nostra salute quindi sono d'accordo e e quindi secondo me eh io lo vedo che c'è ancora tanto da fare lo vedo nel lato non verso però diciamo guardiamola anche dal lato in cui bisogna comunque muovere molto e sul tema di cosa potrebbe fare davvero la differenza sì sicuramente eh direi volontà politica o eh intesa come policy aziendale cioè al di là poi degli obblighi e delle sanzioni eh secondo me proprio anche l'azienda ma anche le procedure revisione delle procedure mi sento di dire ospedaliere cioè procedure mediche quindi che vanno molto dentro nel cuore dell'ospedale nel cuore del modus operandi quindi eh questo sì c'è sicuramente l'engagement è non si può non non possiamo avere nulla se non c'è engagement magari l'engagement può essere positivo come poi parlerò del discorso autologico in avviamento di progetto perché io devo avere qualcuno promotore poi verso tutti gli altri dipendenti però da solo non funziona comunque sicuramente c'è una buona fetta di volontà politica ma intendo non tanto la politica esterna non interna quella dell'azienda certo anche proprio le politiche aziendali i processi infatti nella pratica grazie grazie mille per questi primi spunti allora ricordo di nuovo a chi ci eh chi è collegato da da remoto che attendiamo le vostre domande anche magari mh prendendo spunto da da quelli che sono eh state le risposte dei dei nostri sondaggi e parto ora quindi con la prima domanda per la dottoressa Gamba eh alla quale vorrei chiedere dal suo punto di osservazione qual è la situazione ad oggi sul tema della riduzione della plastica in ambito sanitario in Italia e in Europa e quali sono soprattutto le criticità principali e punti sui ancora sui quali ancora si sta discutendo ehm allora premetto che la Europe non ha un numero sufficiente di membri in Italia per poter avere una visione eh globale italiana sul tema anzi invito le strutture sanitarie che ci stanno seguendo a mettersi in contatto con noi per entrare a far parte della nostra rete globale di ospedali verdi visto che è un'iniziativa eh cui partecipazione non porta di per sé costi per la struttura ma richiede un impegno ad agire sulle varie tematiche ambientali che trattiamo ehm comunque quello che vediamo noi abbiamo un progetto eh che si chiama Two Worlds Plus Sea Free Healthcare in Europe ehm che ha varie attività ma quelle che possono rispondere a questa domanda è l'analisi che abbiamo fatto dei rifiuti in varie strutture ospedaliere negli ultimi due anni e mezzo analisi dei rifiuti e analisi anche degli acquisti eh per vedere quali sono gli oggetti un po' più problematici o quegli oggetti che potrebbe essere più semplice ehm eliminare o ridurre e nonostante le le analisi di rifiuti sia stata fatta in in vari paesi eh quattoreci strutture in vari paesi europei abbiamo visto che i dati sono abbastanza omogeni per quanto riguarda le priorità abbiamo visto che ci sono eh circa sei categorie di prodotti eh su cui si potrebbe lavorare e già eh lavorando su queste sei categorie di prodotti si potrebbe eh andare a eh risolvere un po' il diciamo il quasi il sessanta per cento della plastica che viene utilizzato e se si pensa a tutti i prodotti che vengono utilizzati nel settore sanitario direi che ci sono delle buone ehm delle buone indicazioni. Abbiamo visto che uno delle e si è visto anche durante la pandemia sicuramente bisogna affrontare la tematica del della protezione personale quindi mascherine, guanti, camici eccetera quello è sicuramente un ambito che dovrebbe essere affrontato eh un altro ambito è quello delle delle soluzioni intravenose e e quindi è tutto quello che è connesso a questo e poi in termini di criticità eh sicuramente bisognerebbe guardare a quei prodotti che vengono utilizzati con i pazienti più vulnerabili per esempio le unità neonatali o pazienti cronici perché eh sono più esposti eh all'utilizzo di questi prodotti e per quanto riguarda soprattutto ehm donna incinta o unità neonatali e pediatria noi abbiamo un concetto che chiamiamo il one thousand days ovvero i primi mille giorni di di vita dei bambini sono assolutamente critici per quanto riguarda il loro sviluppo e tante di quelle contaminazioni quando si dice non fumare non bere durante la gravidanza eccetera tutte queste esposizioni possono avere anche un impatto a lungo termine sullo sviluppo eh di questi di questi soggetti e quindi è bene eh ricordando appunto la la missione della delle strutture sanitarie eh quando si vogliono avviare politiche in senso di riduzione della plastica e delle sostanze chimiche all'interno della plastica di priorizzare ehm i prodotti in cui abbiamo visto che abbiano molte quantità perché è assolutamente è più facile in termini di numeri e eh priorizzare anche le unità in cui ci sono queste popolazioni più questi soggetti più vulnerabili eh per ridurre le esposizioni. Benissimo benissimo la ringrazio. Eh allora passo anche alla prima domanda per la dottoressa Valcarossa e a lei volevo chiedere nella sua realtà appunto l'auxologico a che punto siete con la riduzione dell'uso della plastica? Quali progetti avete già realizzato e perché? Bene allora in oxologico. Ah mi scusi scusi se la interrompo. Eh riesci a parlare un pochino più vicino al microfono perché mi sentite? Perfetto così la sentiamo meglio. Ok. Scusi. Grazie mille. No stavo appunto dicendo che in oxologico abbiamo avviato diciamo attivamente un percorso di sostenibilità da dalla seconda metà del duemilaventidue quindi è un po' un percorso che è un going si dicono quindi è in corso però ehm abbiamo già avviato dei dei piccoli progetti comunque nel tempo si sono avviate dei delle iniziative che ci hanno portato a ridurre l'utilizzo di plastica in determinati contesti quindi mi piacerebbe magari spiego brevemente questi progetti che possono essere anche adottati poi facilmente in alcuni anche da altre da altre strutture eh il primo quello forse più chiamiamolo antico è quello di installare l'erogatore d'acqua all'interno delle mense eh parlando poi in in termini di risultato sono ogni giorno vengono preparati per i dipendenti alle cinquecento pasti quindi tenete conto cinquecento bottigliette di plastica in meno ogni giorno eh ci portano quindi ad avere eh un risparmio in termini di tonnellate di CO2 e sei tonnellate di CO2 in meno emesse ogni anno quindi questo è tangibile anche visibile per i dipendenti quindi dà un segnale anche positivo e questo è già in alcune strutture già dal 2015 in altre dal 2019 quindi è già un po' di tempo che viene adottato e un'altra iniziativa eh ad esempio all'interno delle cucine questo sempre dove dove c'è chiaramente quindi parliamo di strutture con degenza abbiamo eh per le lavastoviglie dei contenitori di detersivi che sono collegati eh a muro con codice a barre e vengono identificati dalla macchina e ogni ogni singolo detergente viene identificato e viene prelevata solo la quantità necessaria in base a all'identificazione della quantità di grasso che è contenuta ad esempio all'interno della macchina con delle sonde e questo comporta una durata di questi detersivi più a lungo durano di più non ci sono sprechi migliora anche la qualità dello scarico se vogliamo e quindi chiaramente un'ottimizzazione del processo qui non è plastic free ecco sarebbe troppo però eh aiutare comunque a aumentare la durata dei prodotti e ottimizzarne la il consumo questo eh permette chiaramente un un miglioramento e una maggior durata poi abbiamo altre due iniziative invece più di processo direi quindi la la prima riguarda diciamo l'utilizzo di due aspiratori chirurgici che sono all'interno delle sale operatorie in questo caso di Capitanio eh già in uso il primo dal 2017 e il secondo già dal 2020 che permettono il risparmio fino a 120 litri al giorno 120 chili diciamo al giorno di ehm di rifiuto sia di rifiuto ospedaliero in quanto tale ma soprattutto non vengono più utilizzate le sacchetti di plastica per raccogliere questi questi liquidi che poi dovevano devono essere inseriti all'interno dei contenitori di cartone insomma quelli che si chiamano rot e che poi devono andare a termodistruzione questo è un processo che evitato porta a addirittura a un risparmio fino a 120 tonnellate di CO2 annuali non emesse ovviamente nel caso in cui siano al massimo della capienza diciamo al più indicativamente siamo tra un 60 e un 100 come tonnellate risparmiate ehm l'ultimo poi progetto l'ultima insomma iniziativa eh riguarda la l'ottimizzazione del processo della linea di trattamento di laboratorio che abbiamo a Cusano dove eh un grande laboratorio quindi ha una è stato di fatto applicata direi una teoria di lean quindi l'ottimizzazione del processo ha portato a una riduzione di utilizzo di provette che sono passate da 3000 al giorno a eh 2400 circa anche meno e questo eh ha portato anche qua una riduzione di emissioni di undici tonnellate di CO2 annuali chiaramente come stima quindi questo è benissimo ve la ringrazio quindi già una serie di progetti in in itinere eh dottoressa Gamba torno da lei e le volevo chiedere ma già un po' iniziato anche accennarlo prima ci sono dei settori della sanità o delle imprese anche più in generale che si prestano meglio a politiche di riduzione dell'uso della plastica e perché? Allora ehm sicuramente ci sono dei settori che si prestano meglio ehm mi viene da pensare immediatamente per esempio al tessile eh perché vediamo che c'è stata un un'evoluzione dell'utilizzo del dei capi monouso ehm un po' preoccupante e in alcuni paesi abbiamo riscontrato anche l'utilizzo di tende monouso e quindi bisogna chiedersi eh secondo me bisogna chiedersi la la necessità di 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 questi di questi prodotti ehm noi quando vogliamo appunto sostenere i nostri membri eh in questo percorso di riduzione della plastica della plastica che non è necessario perché è importante fare una premessa che comunque oggetti di plastica e innovazione sono stati assolutamente importanti per il settore sanitario e alcuni sono essenziali e non dovrebbero essere cambiati quello che mettiamo in questione è appunto eh quali prodotti siano essenziali e quali e dove invece c'è un abuso del del monouso eh quindi sicuramente il tessile è un settore in cui eh possono esserci delle buone pratiche di riutilizzo dei 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 capi e anche di eh di vari eh modelli ad esempio di leasing nel caso in cui eh nel caso in cui non la struttura non abbia più eh la capacità di di riutilizzare appunto i loro i loro capi tessili possono fare affidamento ad altre imprese eh come utel eh quindi è sicuramente un settore eh in cui eh si possono ottenere dei buoni risultati poi quando noi cerchiamo di aiutare i nostri membri in questo percorso utilizziamo sempre la gerarchia dei rifiuti eh ovvero la prima cosa è ridurre e puntare a efficientare tutto il eh tutto il meccanismo quindi anche qualora ci sono degli degli prodotti che devono essere monouso eh possono si possono riscontrare si possono attuare eh delle politiche di riduzione qualora ci sia un uso inappropriato abbiamo visto ehm spesso avviene con i guanti monouso non servono guanti monouso per scrivere al computer o per spingere un paziente sulla sedia a rotelle e i guanti monouso eh dovrebbero essere cambiati tra un paziente e l'altro vediamo che appunto eh non vengono utilizzati in maniera corretta o non servono i guanti monouso per vaccinare un paziente se non c'è il rischio di esposizione a a liquidi o infezioni e quindi eh è bene sicuramente guardare a dove si può ridurre e efficientare poi bisogna guardare a riutilizzo eh sicuramente e poi come a riparare e c'è anche la la questione del reprocessing che è molto interessante e e poi come ultima cosa guardiamo appunto al a riciclata a riciclare e quella dovrebbe essere l'ultima eh l'ultima spiaggia nelle nelle varie politiche quindi il tessile ma anche le eh le mense e cosiddette servizi di catering vediamo che c'è tanta plastica monouso lì e non è eh si può mettere in dubbio qualora sia necessaria eh i laboratori e e poi come ho detto prima eh forse non è uno dei più semplici ma sicuramente è un è un settore importante eh tutto quello che riguarda eh le sostanze chimiche utilizzate in questi prodotti e l'esposizione dei pazienti quindi pensiamo al PVC gli iftalati eh vari ehm perturbatori endocrini quindi sicuramente alcuni non sono tra i più facili ma dovrebbero essere prioritari. Benissimo grazie molto molto interessante anche eh scendiamo anche sul sul pratico con anche con questa piramide è molto interessante ehm dottoressa Valcarossa eh ritorno da lei e le chiedo eh che risultati avete ottenuto finora anche con la percezione ecco dei dei professionisti che lavorano presso la vostra struttura e quali sviluppi vedete per il futuro? Allora mh i risultati va beh in parte ne ho già parlato prima insomma di questa riduzione di uso di plastica ehm ma quello che mi piace raccontare è il fatto che è stato avviata una sensibilizzazione interna in ausologico partendo diciamo dal middle management o anche dalle prime linee e e questo ha portato sicuramente alla creazione diciamo di un green team interno che porta avanti diversi progetti diversi progetti che non riguardano solamente la riduzione della plastica ma in un senso più più ampio la riduzione dell'impatto ambientale che può avere una struttura ospedaliera eh verso la l'esterno quindi eh ad un ampio raggio molto più più largo quindi ad esempio non solo la riduzione delle dei rifiuti contenenti plastica ma direi una riduzione dei rifiuti totale quindi sia sia speciali che urbani nella riduzione dei rifiuti speciali anche valutando tecnologie che permettono un trattamento in loco perché alcuni rifiuti si continueranno a produrre non possiamo eliminarli quindi c'è comunque una una quota a parte che non si può eliminare i rifiuti urbani eh è un tema importante perché alla fine eh gli ospedali hanno una grossa fetta di produzione di rifiuti urbani non solo plastica ma anche carta cartone tutto quello che è in imballaggio e e questo è un tema eh su cui si può lavorare perché è di facile mh comprensione anche per chi non è medico voglio dire cioè anche per tutto il personale perché siamo a tutti produciamo rifiuti anche a casa e quindi possiamo coinvolgere anche più facilmente il personale magari visivamente con l'installazione di eh più contenitori di raccolta differenziata anche nelle aree insomma di comuni e anche per l'utenza quindi dare una visibilità insomma alle nostre azioni e l'intervento poi può coinvolgere anche le mense non solo per la tipologia eliminare il monouso ovvero possibile ma anche la tipologia di pasto servito magari introdurre dei pasti vegetari insomma vegetariani una volta alla settimana giusto perché ha un impatto molto più minore eh questo tipologia di pasto piuttosto che sempre avere carne o pesce ecco e poi mh grossa fetta da eh sul risparmio energetici sulla quindi diminuire l'impatto del consumo energetici anche la mobilità sostenibile e eh oltretutto anche eventi più sostenibili perché eh axologico comunque organizza eventi come in un ambito di sostenibilità intesa social quindi verso il pubblico e anche ovviamente verso i propri dipendenti e poi in un ultimo ultimo ma non importante attivare delle partnership perché comunque il grosso dell'impatto che ha una struttura sanitaria è dettato non dalle proprie attività dirette ma dagli impatti indiretti quindi sono i fornitori dell'ospedale che impattano ed è importante attivare delle azioni quindi di partnership. Benissimo la ringrazio su questo punto dei fornitori poi torneremo anche ho visto che ci sono delle domande in merito e anche molte curiosità sulla mensa ma eh per il momento ritorno dalla dottoressa Gamba eh e le chiedo quali priorità vede per il futuro in Europa e in Italia anche in base appunto alle nuove normative le normative sempre più restrittive che sono che regolano questo settore eh quali priorità ci sono secondo secondo voi per il futuro? Sicuramente una priorità a livello globale che ci siamo posti eh quella di essere di essere sicuri che il Global Plastic Treaty ovvero il Trattato delle Nazioni Unite eh eh per ehm ridurre la contaminazione della plastica ehm non eh dia un'esenzione in toto al settore sanitario quando si parla di di riduzione per i motivi che ho detto prima in alcuni casi è necessario in altri in altri casi bisogna mettere in discussione il modello eh in modello che stiamo utilizzando e quindi secondo me è bene eh far sì che qualsiasi politica appunto quando parlavamo prima delle volontà politiche qualsiasi politica a livello globale europeo italiano che mira a ehm ridurre eh la plastica eh non esenti il settore sanitario in toto ma metta in discussione appunto queste procedure eh quindi sicuramente quella è una priorità un'altra priorità è sensibilizzare eh le strutture sanitarie l'esempio che ha posto Silvia eh del middle management o comunque del del personale che vuole eh ottenere dei cambiamenti è importante ma non lo vediamo in tutte le strutture perché spesso eh molti impiegati non 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 sono a conoscenza eh delle dei pericoli posti dell'utilizzo di certi materiali quindi sensibilizzare sicuramente una una priorità perché se non sensibilizziamo e non facciamo capire quali sono i razionali eh dietro al cambiamento che chiediamo eh è difficile ottenere appunto questo cambiamento quindi un cambio culturale è sicuramente la priorità eh e poi eh sicuramente anche fomentare l'innovazione qualora le alternative alla plastica non siano disponibili sappiamo che eh ad esempio per noi il PVC è un materiale molto problematico eh per eh svariate ragioni però sappiamo che in alcuni casi non ci sono delle alternative viabili e quindi lì vedere quali innovazioni possono essere messe in atto per poter utilizzare alternative più sicure ehm sì questo promuovere insomma il cambio culturale ma anche eh far sì che questo cambio culturale sia appoggiato dalle dalle strutture politiche e che permettono appunto di mettere in atto questi cambiamenti certo benissimo grazie allora passo di nuovo alla dottoressa Valcarossa ehm ricordo anche dal al pubblico che ci segue da casa che abbiamo ancora un po' di tempo per raccogliere le vostre eh le vostre domande e poi appunto passeremo alle risposte direttamente dal vivo eh dottoressa Valcarossa ehm la vostra esperienza è sportabile anche in altre realtà e per farlo che cosa serve? Secondo me la risposta è sì come ho anticipato prima perché soprattutto dove c'è De Genta le nostre insomma le iniziative sono assolutamente esportabili ovviamente le altre due che sono di processo eh se c'è una sala operatoria sì consiglio assolutamente l'acquisto di un aspiratore chirurgico e ovviamente invece sul sui laboratori e dipende dal laboratorio che si ha e quanto è grande se può essere ulteriormente ottimizzato ehm cosa serve? Secondo me serve innanzitutto poi per posteriormente implementare le azioni ehm molta insomma molto entusiasmo interno nel senso che servono dei promotori comunque di tutte le iniziative all'interno dell'azienda e fortunatamente devo dire in ausologico siamo più siamo più di una insomma non siamo da solo io non sono sola anzi devo dire che la il grosso della eh promozione di tutta l'attività che è partita con con l'ufficio marketing e con la direzione marketing quindi devo dire ehm per quanto sia assolutamente fondamentale avere il supporto della direzione marketing serve però anche avere un supporto un po' più tecnico e anche il coinvolgimento di tutto il personale quindi ehm in questo momento siamo in tre a portare avanti anche con le risorse umane e insomma cerchiamo di tenere un po' le fila di promuovere questa a queste prime iniziative e quindi direi che serve sicuramente qualcuno che abbia voglia di mettersi in gioco e di richiamare poi il middle management come abbiamo detto per poi procedere con un cambio culturale a cascata poi su tutti gli altri. Certo quindi insomma rimane il personale l'engagement alla fine e la volontà di farlo e volontà di di ehm dare dei dei cambiamenti significativi benissimo allora passiamo a questo punto alle domande che ci sono arrivate dal nostro pubblico ehm allora partiamo dalla dottoressa Gamba le vorrei chiedere le faccio un paio di domande innanzitutto ci chiedono quali sono i paesi più virtuosi in Europa per quanto riguarda la riduzione della plastica negli ambienti ospedalieri e collegato a questo mi viene anche in mente ecco recuperiamo un'altra domanda che è se ci sono stati o ci sono controlli eh per il materiale plastico utilizzato in sanità quindi come andiamo a monitorare questo uso e eh come siamo messi in Europa. Dottoressa Gamba. Ringrazio per le domande. Allora per quanto riguarda i paesi ehm mi sento un po' sempre in difficoltà con questa domanda perché secondo me c'è un po' un bias eh spiego le spesso le veniamo a conoscenze determinate realtà anche per una questione di conoscenza della lingua quindi come health care data in Europe ovviamente ci sono paesi che sono più sensibili alla questione ambientale e spesso sono i paesi nordici d'Europa e poi dipende un po' anche dalla tematica ad esempio Regno Unito è molto eh avanzato per quanto riguarda eh la riduzione delle emissioni quindi tutto l'aspetto climatico ehm però magari sulla plastica un po' meno dipende un po' secondo me è più una questione di realtà delle singole strutture e delle e della volontà di chi all'interno di queste strutture quindi non mi sento mai di eh dare la preferenza a un paese rispetto a un altro ma portare delle buone pratiche da diversi paesi sempre con la premessa che magari ci sono delle buone pratiche non so ad esempio in Polonia ma non parlando in polacco non ne sono a conoscenze quindi vengono non vengono prese in considerazione quindi secondo me bisogna fare un po' attenzione a generalizzare da questo punto di vista sicuramente per quanto riguarda la riduzione dei prodotti chimici i paesi del nord Europa sono molto sensibilizzati e avanzati ehm abbiamo visto realtà eh molto interessanti anche anche in Spagna e in Francia eh soprattutto per quanto riguarda passare a riutilizzare eh i i prodotti passare a riutilizzo eh quindi sì invito a a guardare un attimo le nostre le nostre pubblicazioni per per imparare il più sui case studies che abbiamo pubblicato le e le buone pratiche perché vengono da veramente vari paesi non solo eh uno o due ehm l'altra domanda era era sui controlli eh se si fanno e che tipo di controlli si fanno per il materiale plastico utilizzato in sanità? Beh i controlli sì si fanno perché eh ovviamente tutti poi qui dipende dalla domanda non spiega quali prodotti sanitari però c'è la cosiddetta medical device regulation in Europa che è quella che eh la la MDR che è quella che sicuramente ci sono le varie enti che approvano eh le i prodotti che vengono messi sul mercato quindi i controlli ci sono ehm ora le il problema che noi riscontriamo nel settore sanitario è la appunto il fatto delle delle esenzioni ovvero che l'esempio con eh la MDR ci sono ancora delle esenzioni per determinati prodotti perché si parla di uso essenziale è lì che un po' c'è il problema perché sì si controlla la sanità ma se non ci sono delle alternative eh per fare un esempio ci sono eh i cosiddetti plasticizer plastificanti che non si possono utilizzare nei prodotti nei nei giocattoli per bambini però si possono utilizzare nei medical device se si utilizzati per i bambini perché perché salvano una vita e quindi bisogna guardare al concetto di essenzial use che è quello che poi pone più eh che pone una problematica quindi i controlli vengono fatti però ci sono delle delle esenzioni per varie ragioni in alcuni casi ehm quello che dobbiamo investigare è la il concetto di essenzial use e verificare appunto che sia sempre necessario certo certo sicuramente eh dottoressa Valcarossa torno da lei invece per farle una domanda eh per quanto riguarda gli erogatori d'acqua immensa proprio sul progetto di cui parlava prima ci chiedono viene comunque fornito un bicchiere monouso all'utente o vengono utilizzate borracce e o bicchieri lavabili? Eh in questo momento siamo ancora ai bicchieri monouso ai noi infatti come vi dicevo siamo ancora siamo è un percorso che è appena avviato di fatto quindi eh il nostro diciamo il percorso sarà quello mi auguro di diminuire tutto il monouso non essenziale come diceva Rianna quindi eh quello dobbiamo sicuramente fare ancora dei passi avanti ma l'ho detto all'inizio che era un percorso avviato diciamo certo sicuramente infatti prego prego dottoressa volevo commentare su questo che c'è un esempio interessante che noi abbiamo riportato da Newcastle dove e non penso sia l'unica struttura in cui viene effettuato dove nel loro al loro bar chi porta la propria tazza eh riceve uno sconto sul caffè quindi eh ci sono vari esempi ovviamente hanno anche le tazze del cosetto take away però se tu porti la tua è anche uno sconto sul 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 caffè certo questo è già un piccolo incentivo ma significativo esatto tra l'altro sempre su questo tema del monouso invece c'è una domanda interessante per quanto riguarda appunto la plastica monouso eh nei ristoranti nei fast food nei bar che prima del covid stava iniziando anche in Italia ci scrivono la riduzione della plastica monouso in questi contesti con il covid poi è diventato tutto monouso in realtà siamo tornati un po' al monouso che è di nuovo aumentato qual è la vostra percezione ci sono dati in merito è andata veramente così? Eh non ho dati alla mano sicuramente come percezione durante eh la la pandemia ne abbiamo visto anche legislazioni che favorivano il monouso eh in alcuni paesi e quindi sicuramente la non è solo una percezione ma è accaduto che in tanti nella ristorazione si è tornati al monouso la mia personale percezione è che non sia ancora così attualmente perché siamo usciti da e poi all'inizio c'era molta paura perché non si sapeva come la malattia veniva trasmessa e ora che sappiamo che non è una questione che è una questione di ehm di respiratorie non è una volta che si possono disinfettare lavare eccetera le le tazze tutto le le stoviglie eccetera si sa che si può tornare a eh al al modello che c'era precedentemente eh secondo me all'inizio c'era tanta paura e quindi di riflesso c'è si è visto un un aumento anche se in molti casi magari era ingiustificato anche per me posso dire cioè in ambito ospedaliero durante la la pandemia i rifiuti sono aumentati in qualsiasi struttura in modo veramente a volte anche esponenziale e quindi perché c'era anche il tema del monouso eh sicuramente spesso anche nelle procedure stesse indicate all'interno delle strutture quando ci sono infezioni di vario tipo si dice no alla persona che dovesse avere problemi di infezioni no si utilizza monouso e tutto finisce nei rifiuti ospedalieri eh sicuramente bisogna un po' fare di nuovo ritornare nei vecchi passi cioè perché effettivamente va gestita come come una infezione di di altro tipo cioè non non è più speciale insomma adesso di rientra nell'ambito del rischio biologico come come altri come altre certo quindi rientra in deve essere gestita secondo una determinata procedura non va eh diciamo utilizzato il monouso sempre e comunque dappertutto ecco eh dottoressa Valcarossa rimango da lei eh per appunto tornare sul tema del dei fornitori anche lei prima ci diceva una questione anche di partnership ehm ci chiedono nelle gare di appalto ci saranno i criteri di valutazione maggiori punti per il classe free oppure sarà un requisito fondamentale per poter partecipare alla fornitura in questo momento non è ancora non c'è ancora una normativa sì allora sì sì in questo momento è una domanda che sicuramente è interessante nel senso da prendere in considerazione ad oggi eh nel senso è prematura ma non come idea finale perché sicuramente sarà da tenerne conto ehm stiamo ancora lavorando sulla parte partnership eh come dire stiamo in realtà adesso definendo in modo definitivo i progetti che poi andranno avanti da qua ai prossimi anni eh però sì eh sarà uno dei criteri che senz'altro verrà verrà preso in considerazione e dovrà essere così altrimenti ripeto il nostro sforzo interno non potrà andare oltre il trenta per cento di riduzione quindi per forza di cose dovremo farlo eh però ecco adesso non ho ancora non è ancora stato deciso internamente in che modo però sì sicuramente avrà un suo peso certo eh prego dottoressa Sì su questo tema vorrei cogliere l'opportunità di menzionare i criteri minimi ambientali italiani eh per quanto riguarda il tessile riutilizzabile eh dove appunto la anche per il settore sanitario la preferenza dovrebbe essere data a eh al tessile riutilizzabile ora io non so quanto siano stati pubblicati nel duemilaventuno e per noi è stata una una un'iniziativa eccellente e l'abbiamo anche tradotti in altre in altre lingue sul nostro sito uniti ad i criteri che c'erano già in Svezia per rendere il documento più completo però questa è un'iniziativa italiana che abbiamo trovato eccellente a cui volevamo dare visibilità anche in Europa non so quanto siano applicati nel senso qui c'è una volontà politica in altri paesi abbiamo visto che alcuni addirittura volevano favorire il il monouso invece in Italia c'è stata questa volontà politica di favorire il riutilizzabile nel tessile non so quanto siano applicati poi questi criteri nei nei singoli appalti questo è da investigare però sicuramente quello è stata un'ottima iniziativa benissimo la ringrazio per questa segnalazione è molto interessante anche appunto visto che coinvolge così in un tema un po' all'avanguardia anche il nostro paese quindi è sempre interessante ehm allora vi faccio le ultime due domande poi eh il tempo a nostra disposizione sta quasi per terminare eh ci chiedono se ci sono evidenze di risparmi economici legati all'abolizione della plastica e del monouso chiederei chiuderei con questa domanda per entrambe diciamo dottoressa Valcarossa beh evidenze economiche sicuramente vabbè se parliamo delle nostre iniziative eh sulla direi l'aspiratore chirurgico eh sì assolutamente perché poi oggi lo smaltimento dei rifiuti è diventato veramente molto molto costoso e quindi non è soltanto lì abolire la plastica ma abolire il rifiuto quindi su quello incide maggiormente e sul tema dell'acquisto delle bottigliette di plastica piuttosto che l'erogatore diciamo che direi che quello è più una tematica ambientale specificamente non c'è non vediamo una differenza enorme di di costi. Eh secondo me quando si va più sui processi l'impatto è maggiore cioè come anche o minore spreco minore smaltimento del rifiuto cioè perché la plastica poi va smaltita e se contiene rifiuto ospedaliero eh si somma al peso del rifiuto quindi è da contare quello. Certo. Dottoressa Gamba dal suo punto di osservazione? Sono sono sicuramente d'accordo sicuramente i mh i risultati si vedono magari nel lungo termine o quando si ha una o quando si considera il il prezzo il costo totale del prodotto vero quando si guarda il costo dello smaltimento dei rifiuti o anche quando si parlava di pandemia o resilienza del settore abbiamo visto cosa era successo quando non c'erano abbastanza mascherine o o camici e si è dovuto acquistare magari quello che si poteva trovare eh con situazioni molto complesse e quindi magari il camice riutilizzabile costava di più al momento dell'acquisto ma il potere riutilizzarlo dava anche un vantaggio di resilienza in queste situazioni di sciocchi e di crisi quindi se noi vediamo che spesso quando il il prodotto è riutilizzabile può costare di più in confronto a quello monouso però nel lungo termine usandolo più volte e prevenendo appunto il rifiuto eh c'è un c'è un risparmio quindi mh ha senso economicamente farlo. Benissimo quindi un altro punto a a favore diciamo. Benissimo. Vi ringrazio allora ringrazio le nostre ospiti eh per oggi dobbiamo chiudere qui il nostro tempo è terminato ma sicuramente abbiamo visto che il eh il tema è molto interessante siamo all'inizio su una serie di progetti, iniziative, riflessioni eh e quindi le approfondiremo anche come al solito sulla nostra testata Trensanità eh punto it e prima di chiudere vi ricordo la prossima live di Trensanità che è in programma per giovedì ventitré marzo sempre dalle quindici e trenta alle sedici e quindici. In questo caso parleremo di vaccinazione anti-influenzale pediatrica e del valore di questa scelta non solo per i piccoli pazienti ma per la società nel suo complesso. Saranno con noi Michele Conversano, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azio Taranto e Stefano Palcic, responsabile della struttura di farmaceutica convenzionata e per conto dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Ancora grazie a chi ci ha seguito finora e arrivederci alla prossima. Buon pomeriggio. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.